C'è l'ora di cui è bella i peggiosi da qui. Posso dire che c'è l'ora di un peggio? Possiamo anche agli... Siamo... Esa miracca tarotata... Pecciagliacca... Paimo! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, 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 bravo Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti